Inaugurata oggi la mostra di Il Legio, un appuntamento imperdibile. Quali sono le novità? La mostra è una collezione di 40 opere da 8 paesi d'Europa, affascinanti, 9 secoli di storia dell'arte, con firme altissime come Raffaello, Giovanni Fattori, Picasso, Michelangelo e un'opera che potrebbe anche essere un Caravaggio inedito e lo stiamo studiando, accanto ad altre, magari di autori meno notti, ma capaci di commuovere, di rievocare dentro di noi la memoria di quando noi eravamo a scuola o abbiamo avuto la fortuna di incontrare dei grandi maestri nella vita.